Assessore Bonavitacola, oggi un incontro con Conf Commercio per parlare innanzitutto di quelle che sono le prospettive per quanto riguarda anche le imprese locali. Ma lei è più che altro al di là di quello che è un discorso di amministratore, parliamo anche a livello professionale, lei è commercialista, quindi inizierei con questo tipo di domanda. Queste iniziative servono a fare cosa? Queste iniziative servono ad avvicinare le imprese a tutti questi provvedimenti che stanno uscendo per dare loro respiro e possibilità di poter andare avanti in questo momento così difficile. Oltre a questi finanziamenti che si sta parlando con la Conf Commercio e altre associazioni di categoria, adesso ci sono anche tutti i vari PNRR che il governo sta stanziando e sta mettendo in campo anche maggiormente per le amministrazioni pubbliche e noi come amministrazione comunale ci stiamo adoperando per far sì di portare quanto più possibili progetti affinché porti rientrano nelle casse del Comune e dare servizi sempre maggiori a questa città che purtroppo da molto tempo non riesce a decollare. L'augurio è che con questi finanziamenti possiamo dare risposte per i servizi alla cittadinanza. Ne sono partiti già alcuni, tra cui un bando regionale strada per strada è stato approvato il 28, l'abbiamo inviato in regione, molto probabilmente ci sarà approvato per tutte le strade del circondario di Lucera e di Lucera. Abbiamo inviato altre proposte per delle piazze da sistemare, tra cui Piazza Terme Romane che era abbandonata da molto tempo, ci auguriamo che venga finanziato dai piani PNRR per dare una risposta anche a quella zona. Ci stiamo attivando e io personalmente mi sto attivando, tant'è che ho lasciato questa conferenza perché sto andando al Comune a relazionare su un bando sulla nettezza urbana per le isole ecologiche informatizzate e per un nuovo centro di raccolta con finanziamenti di oltre 2 milioni di euro. L'auspicio è che ci vengano accolti questi finanziamenti e dare risposte alla città.